osserva questi punti come possiamo indicare le loro posizioni nel piano non è possibile se non c'è un sistema di riferimento per costruirlo tracciamo due rette perpendicolari gli assi l'asse delle ascisse orizzontale e l'asse delle ordinate verticale il loro punto di intersezione si chiama origine gli assi sono orientati cioè è indicato un verso e graduati scegliamo un'unità di misura e riportiamo la sugli assi a partire dall'origine numerando i punti trovati tracciamo delle parallele agli assi passanti per le tacche segnate questo è il piano cartesiano per indicare la posizione di un punto osserviamo le rette passanti per quel punto e le loro intersezioni con gli assi in questo caso il punto 5 sull'asse x e il punto 4 sull'asse y le coordinate di p sono 5 4 osserva che il punto 4 e 5 è diverso da p ogni coppia ordinata di numeri che il punto 4 identifica un punto del piano e qui Grazie a tutti